La mia riflessione è molto semplice, bisogna tenere presente che le tecnologie stanno cambiando e bisogna tenere presente che l'avvento dell'informatica, dell'internet of things, i sistemi informativi che sono più tipici di aziende non pubbliche ma aziende private in realtà stanno entrando in massa anche nella pubblica amministrazione. Quindi il codice degli appalti che prevede tutta una serie di vincoli e ristrettezze da un punto di vista amministrativo e tecnico in realtà dovrebbe un po' essere aperto a interpretare le tecnologie cloud, le tecnologie dell'internet of things e a capire che si ha di fronte non più un fornitore tradizionale che fornisce infrastrutture ma un fornitore che fornisce tecnologie attraverso servizi. Quindi sotto certi punti di vista va un po' stretto il codice degli appalti, andrebbe un po' adattato a questi nuovi aspetti. L'altra cosa che invece dico è che bisogna aspettarsi, proprio in virtù di tutto quello che ho detto prima, l'avvento di nuovi attori tecnologici. Un po' quello che è avvenuto in altri settori, il broadcast, le telecomunicazioni, anche i settori aziendali. Prima i fornitori erano fornitori tradizionali di hardware, di soluzioni infrastrutturali. Adesso anche nel mondo della sanità ci aspettiamo che i big dell'informatica la iniziano a fare da padrone. Questo che cosa significa, tornando alla domanda del codice degli appalti? Diverse metodologie di acquisto, diverse metodologie di valutazione dell'investimento, probabilmente diverso impatto fiscale. E se andiamo a capire qual è l'impatto dell'utilizzo di massa delle nuove tecnologie, anche sui wearable device, sui dispositivi impiantabili sotto cute, piuttosto che quelli che commercialmente già troviamo nei supermercati, iniziamo a capire che il nostro vero cliente, l'utente, in massa ci entra in casa e non passa più dallo sportello. Allora il nuovo codice degli appalti è la vera innovazione di processo per capire come gestire questa ondata che sta arrivando. Questa è la mia opinione.